La mia lista è la spesa Ragazzi è impossibile, cioè lui ha memorizzato tutte queste città ma poi non è sbagliato neanche un abitante Ti posso ripetere anche le cifre al contrario se vuoi, se mi dici una città ti dico il numero di abitanti al contrario Cagliari abbiamo 823841 Ok, memorizza? No 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 l'ho fatto Hai già memorizzato? Allora sì, abbiamo 308, 402, 121, 608, 344, 728, 728, 800, 999 Ma non ci credo, ma com'è fatto? Venite qui